I pipuzzi li ha un bel città Accusi strani sintomi? Tipo tristezza apatica? Fin da ragazzino mi sono sempre sentito più sottotono rispetto ai miei amici Loro si divertivano sempre, erano sempre euforici Io invece anche se uscivo con loro non riuscivo a integrarmi Mentre loro li vedevo, bastava bevessere un bicchiere d'acqua e cambiavano totalmente personalità Ogni giorno nel mondo milioni di persone soffrono tantissimo a causa dell'incapacità di divertirsi assieme agli amici Ogni venerdì mi invitavano sempre in discoteca, ma non riuscivo a divertirmi Vedevo i miei amici che non avevano freni di nessun tipo, rimorchiavano sempre Eppure bevevano solo acqua, mentre io continuavo a bere gin tonic E alla fine mi ubriacavo seduto sui divanetti da solo, non capivo Quando accusi sintomi di apatica disperazione e tristezza Non attendere i tuoi amici Corri subito in farmacia La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nel ricondizionare gli iPhone rubati Per poi rivenderli agli spacciatori Ha brevettato un farmaco in grado di farti divertire e sbloccare tutti i freni inibitori in una sola assunzione Euforia 400 Euforia 400 si presenta sotto forma di simil pastiglietta Di simil color rosa con sopra impresso un simil teschio Ti basterà di sciogliere l'Euforia 400 in un simil bicchiere di simil acqua simil gasata E mandare giù tutto d'un fiato senza farti troppe domande E, benché non si dica, tutte le tue inibizioni scompariranno Facendoti divertire per tutta la notte La Play Jill Euforia 400 è un prodotto Franco Farm Attenzione L'uso di Euforia 400 anche solo mezza volta avrà effetti collaterali gravissimi Come gambe autonome che si muovono a ritmo di musica dance per sempre Mutazione dei denti in tanti piccoli martelli pneumatici sempre accesi e rumorosissimi Capelli a Mozart che vengono mossi in continuazione da un vento che non capisci da dove arriva Incapacità di dire no a qualsiasi avance ricevi da un'anziana signora Super dolore ovunque per sempre Colpito al centro della fronte da un arciere bravissimo ogni volta che saluti i colleghi in ufficio Assomigliazione immediata a personaggio dei cartoni Pixar ma con una tecnologia 3D degli anni 80 Uno schiafo fortissimo da dietro ad ogni accenno di sbadiglio al cinema e anche a casa mentre guardi Netflix Un sosia verosimile di Gollum che ti frega l'anello nuziale ogni volta che fai la doccia Rimescolazione degli arti in maniera confusa e asimmetrica e conseguente ingaggio da parte di un vecchio circo freak Azzeramento istantaneo del plafond della carta di credito non appena accenni a pagare la cena ad una bella ragazza Muttazione del pene in cambio a 6 marce con pomello a palla 8 al posto del glande Improvviso invecchiamento ma solo del lato destro del corpo Dita delle mani fatte all'uncinetto e anche molto belle Comparsa ad una volante a sirene spiegate dietro di te ogni volta che sei in macchina e non riesci mai a farla passare Azzerazione immediata della saliva ogni volta che limoni con qualcuno Un arrembaggio di pirati ubriachi di room ogni volta che prendi il pullman per l'aeroporto Bombardato da uno stormo di caccia da guerra americani ogni volta che bevi il caffè la mattina Un concerto metal da due ore che fuoriesce dalla tua bocca ad ogni colpo di tosse Morte per attimo troppo fuggente Hai capito discotecaro drogato del cazzo? Da oggi basta gin tonic in discoteca che fanno male Assumiti una bella dose di Euphoria 400 Euphoria 400 è un prodotto Franco Farm E con le prime dieci confezioni in regalo uno spacciatore da tenerti sul comodino di casa E con le prime dieci confezioni in regalo uno spacciatore da tenerti sul comodino di casa E con le prime dieci confezioni in regalo uno spacciatore da tenerti sul comodino di casa E con le prime dieci confezioni in regalo uno spacciatore da tenerti sul comodino di casa